L'ultima autorizzazione che spetta allo sportello SUAP del Comune potrebbe essere messa entro fine mese. Questo è il tempo preventivato per arrivare all'atto finale preliminare all'avvio dei primi lavori edili dell'investimento Argo Cassiopea di Eni. Ad inizio settimana dalla riserva Biviere è arrivato il parere favorevole ma a condizione che vengano rispettate le 15 prescrizioni indicate dal responsabile di Pue Emilio Giudice. Tutti i punti legati al piano di gestione troppo spesso rimasto solo lettera morta. Ieri mattina dopo aver valutato il parere di Ipu in Comune si è tenuto un incontro tecnico. C'era anche il vice sindaco Terenziano Di Stefano che da qualche tempo ha aperto una linea di dialogo proprio con la riserva Biviere sul tema dei pareri per i progetti nelle aree vincolate. Spiega che la procedura è stata seguita con il parere obbligatorio ma non vincolante che è stato rilasciato entro i termini previsti. Secondo Di Stefano quello del SUAP per l'autorizzazione finale potrebbe essere rilasciato al massimo entro fine mese. Di Stefano in funzione del municipio hanno acquisito il parere Ipu approfondendone i contenuti. Non ci sono osservazioni che toccano le opere previste nel progetto di Eni. Dal Comune fanno sapere che sulle prescrizioni e sulle opere compensative ci sarà appunto una valutazione da parte dello sportello SUAP dell'assessorato al quale comunque spetta la decisione finale. Da anni i responsabili locali Ipu spingono affinché sui progetti e sulle autorizzazioni si tenga conto del piano di gestione di quello di risanamento praticamente mai attuati. I sindacati ai vertici Eni nelle scorse settimane avevano sollevato il timore di ulteriori ritardi nel rilascio delle autorizzazioni di competenza del Comune con il rischio di uno slittamento dei tempi per la partenza dei cantieri del progetto Argo Cassiopea in assoluto quello più consistente finanziariamente nell'intero protocollo d'intesa della 2014. La Ipu nonostante un ufficio ridotto ai minimi termini ha rilasciato il parere entro le scadenze fissate e il municipio in attesa di monitorare il rispetto delle prescrizioni riportate Sembra ormai prossimo a concedere anche l'ultima autorizzazione.